...talmente al suo giocatore più efficace. Bravo, bravo, bravo! Si allena molto sui tiri in porta, eh? Sì. Anche sui cross hai una carta adesso. È troppo importante perché arrivi lì. Se vuoi giocare davanti, devi sapere fare questo. No? Cristiano è un mostro. È incredibile, un mostro. Sì, sì. Quando gli arriva la palla, gli riesci a fare delle robe. Sbaglia pochissimo. Sempre coordinato. Sempre coordinato sul palco. Buona, buona, buona. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Come stai? Sì. Fuori? Sì. Vien, no? Sì.